Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video! In questo nuovo video volevo fare un video in cui apriremo un pacco che è arrivato. Oggi sono in compagnia di... Melissa E? Gasia Ok, adesso apriamo il pacco. Ok! Apriamo il pacco. Ok, non so viena brutto. Sono ancora 3 ore. Puoi farti un equilibrio. Puoi farmi un po' data dalla mia... Lo suprime. Non so cosa sta dicendo. Quello è sempre un attrata però, questo è un buco. Che c'entra un buco? Un buco. Un buco. Aspettate. Eccole le lol. Le lol. Sprengo. Felice? Ok. Abbiamo una. Una di Asia. Due. Una a te. E tre. E uno a me. Ok. Basta. Lasciamo dentro. Quella è di Asia. Quella è tu. Ok. Ragazzi. Adesso apriremo questa lol. Di Asia. Sì. Vedremo di chi sarà. Decidiamo dopo. Ok. questo è lo speciale 30 iscritti. Grazie ragazzi. Ok. Allora questa è di? Decidi? E' tua? Va bene. Allora apri. Vieni qua. Prova ad aprire. Così. Guarda. Guarda. Io faccio. Mamma mia. Vai. Apri. Tira. Vai. Ok. Sapeste che è? Oh. Guarda che. Quella è la. Mamma che bello. Tira la carta. Vai. Mamma come sei forte. Ok. Abbiamo trovato questo indizio. Che dice. Col. Es. Ai. Boh. Non so come si pronuncia. C'è questa faccina con gli occhiali e il ghiaccio. Ho già capito. Il ghiaccio. Vai. Tira. Aspetta. Faccio io. Mamma mia quanto è difficile. Oh. Mamma mia. Vabbè. Capiamo da qua. Vai. Tira. Tira. Tira la toniera. Mamma mia. Ok. Se l'abbiamo fatta. Benissimo. Togliamo la carta. Vediamo. No. Sono qua gli sticker. Eccoli qua. Ok. Ok. Questi sono gli sticker. Come i soliti. Poi. Tira. Mi dimentico sempre. Vai. Adesso vediamo la borraccetta. Ok. Ok. E' la zetta. E' felice. E' felice. E' la sua prima lol. Ho capito chi è. E' bellissimo. Ok. Ragazzi. Guardate. Ma che c'è bella. Ah no. Mamma. Che bella. rosa. Abbiamo questo biberon. Molto carino. Sei felice? Sono ancora felice. Ok. Ragazzi. Aspettate. Trovate. Questa qui. Oh mamma mia. Che bella rosa ce l'hai. Mamma mia. Rosa. Non è possibile. La rosa la bolla. Vai. Tira. Non sa che è una bolla. Non so sempre. Tira. Cos'è una billar. No. Troviamo. Una scappetta. Tira. Lo so che stai scappetta è. Brava. Lei è in formata. Eccole. L'hai visto. Non l'hai visto. Guarda. Guarda. Quel ghiaccio. Mamma mia. Che bella. Che l'hai trovata. Hai trovata proprio la più bella. Sai? No. E' ovviamente. Tutte sono belle. Vero Marissa? Si. Ok. Mamma mia. Che bello. Io non posso vestirla. Si. Tu quella vesti. Si. E' proprio lei ragazzi. Adesso manca solo il vestito. Hai visto? Vesso il vestito. Hai visto che bello? Il vestito. Ok. Guarda. Ti piace? Mh. Mh. Adesso abbiamo finito di aprire la lol. Adesso andiamo. Cioè abbiamo finito di aprire gli strati. Ha due accessori. Mamma mia. Quanti. Ok. Abbiamo la checklist. Abbiamo trovato. Ha trovato lei. Ha trovato. Apriamo prima il cappellone gigante. Cappellone. Il cappellone. Sì. C'è il cappellone. Guarda. È vero. Prendelo tu. Guarda. Ti piace? Ti. Che bello. Viste com'è grande? Poi abbiamo. Allora. No. Ho paura. Di perderlo. Non mi ricordo cos'è. Ah. Si. Una collana di perle. Guarda. Quanto è bella. Sei felice? Mh. Mamma mia. Adesso. Pronta? Questa la lol. Adesso la tieni tu fuori eh. E' la lol. Questa. Vai. La capisco. Vai. Prendi. Oh. Ti piace? È bella. È felice. È la tua lol. 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 Calma. Calma. Fa la pipì lei. Eh. La vuoi vestire? Sì. La vesti tu? Sì. Metti le mani. Vai. Vestila tu. Ok. Metti la qua 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 qua. Sì. 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 Ok. Prendiamo le scarpe. Vieni qua. Sì. come si perdono. Bravo. Metti. brava. Metti. Ok. Adesso rimettiamo il cappellino. E la collana. Quella. Quella. Mamma. Quella. Bella. Hai visto? Immagini che nelle altre c'è questo uguale. Wow. Che bello. Wow. Mamma mia. Oh mamma. È difficile. Aspetta. Togliamogli la testa. Vedi. Fa la pipì. Perché c'è il tubo. Fa la pipì. La pipì. Aspettate. Perché lei fa la pipì. Lei fa la pipì. Lei fa la pipì. Sai la pipì. La pipì fa. Sei felice? Non so. Fa la pipì. Fa la pipì. Fa la pipì. Fa la pipì. Si. Allora. Se trovate questo inizio. Dov'è la checklist? Questa è la tua checklist. Vedi. 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 Troverete una di questo club. Vedi. Ho trovato una bellissima. Ok. Ragazzi. Questo era il video speciale. 30 iscritti. Speriamo tantissimo che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto. Spoliciate tutto il mondo. Iscrivetevi al mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.